Ciao a tutti ragazzi, mi trovo nel mio studio, come potete vedere dal riflesso dei miei occhiali. Da oggi vorrei promuovere questa nuova iniziativa di scontare del 30% i dischi che mi piacciono. Alla mail che trovate qui sopra, vi chiedo di mandarmi i vostri provini. Li ascolterò tutti e quelli che mi piaceranno verranno contattati, prenderanno un appuntamento con me e avranno la possibilità di registrare i loro brani col 30% di sconto. Quindi mandate i vostri link, i vostri MP3, le vostre cartelle, i Dropbox, WeTransfer, qualsiasi cosa, questa mail. Lasciamo anche il link per il forum sul sito in maniera che sia facilissimo contattarci. Un abbraccio e compratevi gli occhiali riflettenti che sono molto divertenti in video. Ciao!